Sai in quanti modi la natura crea benessere? Scopriamolo insieme su ambrogioitalia.com Tutto è necessario per il benessere del corpo e dello spirito da oltre 50 anni. Abbiamo iniziato facendo conoscere il kiwi all'Italia e poi all'Europa negli anni 70. Ora abbiamo diversi brevetti vegetali, come il Gin Pent, che grazie alle molteplici proprietà benefiche di un unico ingrediente agisce su pressione, circolazione, diabete, artrite, artrosi e colesterolo. La catambra, l'unica pianta anti-zanzare prevettata che funziona. Il giardino della salute, kit di piante salutari selezionate per te da coltivare a casa tua. Ma anche le piante per il tuo giardino, dalle grandi dimensioni alle piccole, da ora acquistabili anche online. E molte altre soluzioni naturali per stare bene e volersi bene. Qui su ambrogioitalia.com puoi da subito coglierne i benefici acquistando direttamente online. Pochi semplici passaggi e avrai la consegna rapida, a costi convenienti, con un pagamento sicuro. ambrogioitalia.com Star bene, scoprendo la natura.